Il 13 aprile, in piena emergenza Covid, sono arrivati a Torino ad Armanforte e i colleghi locali impegnati in turni massacranti in Corsia. Sono stati 38 i sanitari, tra medici e infermieri, arrivati da Cuba, che oggi, a tre mesi di distanza e emergenza finita, nel giorno del cinquantesimo anniversario dall'insediamento della prima Assemblea, il Consiglio regionale ha voluto ringraziare, con l'onorificenza della Presidenza del Consiglio, per meriti civili. La cerimonia alle OGR, a pochi metri da dove hanno lavorato per tre mesi, in quello che era stato definito il Covid Hospital, uno spazio approntato velocemente per colmare la carenza di posti e che a breve sarà smantellato. Un modo per dire grazie a chi, nel momento del bisogno, non ha esitato a mettere a disposizione competenze e professionalità e che anticipa il riconoscimento attribuito anche al personale sanitario del territorio. È stata un'onorificenza non solo ai medici cubani, ma all'intero settore sanitario piemontese che ha collaborato per uscire a questa pandemia. Sicuramente sono tanti, sono oltre 100.000 persone. In primis abbiamo voluto farlo con i cubani, perché nelle prossime giornate ritorneranno al proprio territorio. Il compito loro, fortunatamente per noi, è finito. Si è uscito dall'emergenza Covid-19, ma dobbiamo continuare a mantenere l'attenzione molto alta, a mantenere il distanziamento sociale. Numerose le autorità presenti alla cerimonia, insieme a consiglieri e assessori regionali, è il personale sanitario cittadino, che in questi mesi è lavorato in sinergia con la brigada Henry Reeve. Un clima di particolare cooperazione, come è stato sottolineato da José Carlos Rodríguez Ruiz, ambasciatore cubano in Italia, il quale ha ricordato il legame tra i due paesi e confermato che di fronte alla nuova emergenza, i medici saranno pronti a ritornare. Poi la premiazione, un riconoscimento per ognuno. Sui volti dei sanitari cubani, l'emozione del momento e i segni dei tre mesi di duro lavoro. Nell'applauso della platea, a gratitudine verso chi ha salvato la vita di decine di persone, senza tirarsi indietro di fronte al pericolo. Un ricordo di fatica, un ricordo di sforzo a lavorare insieme con il personale medico e infermieristico italiano, con eccellente fusione professionale di due scuole di medicina che hanno un unico obiettivo, curare il paziente. Sono state storie intense, ognuno di loro ha qualcosa in particolare e una cosa in comune. Tutti volevano vivere. Grazie a tutti.